Anzitutto buon 25 aprile a voi, ma perché siamo qua oggi? Altro mini unboxing di una cosa che amo particolarmente tanto che probabilmente molti di voi già hanno in casa ma è una passione che ho riscoperto da poco, che già amavo da piccolo Vi direte cosa c'è qua dentro, un bisturi dell'insulina, no? Tac! Effettivamente noi troviamo un sigarello cubano Il principe In realtà è una mia passione che ho riscoperto da poco sia perché con questa terza laurea volevo fumare uno sigaro cubano in realtà ho preso questo sigaro, costa davvero poco, 3 euro non ho ancora avuto modo, lo fumerò poi in un'occasione speciale anche perché io non sono assolutamente fumatore però ho visto sempre nel mondo dei sigari qualcosa in più diciamo di nobile che mobilitava la persona e quindi sono rimasto assai incuriosito Il mondo dei sigari è veramente molto affascinante La descrizione che ho avuto di questo primo piccolo cubano con foglie grezze quindi essiccate con un aroma molto particolare ma se ne sono di vari tipi I cubani per esempio devono essere fumati con del whisky e del rum per parare il loro profumo molto grezzo che potrebbe dare fastidio Se avete avuto modo comunque di fare degustazioni diverse di vino alcolici vedrete delle comparazioni che possono essere fatte con le foglie secche Per esempio in questo caso questo piccolo sigarino qui è molto concentrato e difatti lo tengo praticamente dentro questa beauty case a stuccine che per preservarne praticamente l'aroma diciamo Ce ne sono anche degli altri di vari tipi questo perché i cubani si stendono a spezzare molto facilmente ci sono anche i finlandesi o i danesi che resistono ancora di più È chiaro però che la tecnica sigaraia la tecnica essiccativa per formare i nostri sigari si è evoluta nel corso degli anni e più le foglie sono secche maggiore comunque sarà il profumo speziato ma maggiormente fragile sarà il sigaro La concezione quindi per me del sigaro viene vista non come un'intossicarsi come la sigaretta ma come dei piaceri personali che devono essere visti in alcune particolari mood della vita come questo della mia terza laurea che ho appena concluso bravo io e questo qui primo sigaro l'ho trovato a 3 euro costato veramente pochissimo i prossimi andrò a recuperarli in Galleria Vittorio Emanuele almeno due danesi o due finlandesi adesso vediamo la disponibilità sempre del nostro punto sigaro non so neanche se si dica sigaro o sigaraia comunque venditori di tabacchi e quindi diciamo che sicuramente i sigari riconoscono una passione di qualità che permane certo ma nel mondo del fumo possiamo dire che gli unici miei vizi sono stati appunto dei sigari che ho fumato nel corso dei miei 28 anni di vita e una volta il narghile sui navigli la cosa buffa è stata poi tra l'altro che questo narghile mi ha praticamente intossicato di vapore d'acqua perché io non so fumare quindi in sostanza sono stato letteralmente vaporizzato dal narghile a gusto me l'aroma veramente molto buono ma tutto questo per stare a dire che il fumo stesso così come alcuni particolari riti propiziatori o possiamo dire alcuni trasgressioni fanno sì di rendere l'essere umano particolare e attratto da quell'oggetto per dire a quel feticio o quella modalità che lo possa rendere trasgressivo tra virgolette ma senza nuocere troppo e questo fin della notte dei tempi per esempio pensiamo quindi tutti gli alimenti nervini caffè, cioccolato, spezie il fumo stesso il fumo veniva visto appunto come un rito un rito stesso di avvicinamento alle divinità o di raggiungimento di un piano elevativo mentale superiore quasi nel nostro caso il sigaro di per sé sta a indicare uno status quo simbol tale per cui si vede la figura rappresentata della persona spesso vediamo che il sigaro veniva fumato dai conquistadores, baroni, conti quindi persone di un certo rango e fa sì di materializzare quella persona stessa in un ambito superiore adesso le sigarette al tempo stesso della scoperta del tabacco della lavorazione del tabacco per esempio erano nate praticamente quindi per lo scambio anche degli schiavi quindi si potevano comprare, smerciare comunque anche con il baratto stesso schiavi comunque o altri pezzi possiamo dire d'oro, vestiario all'epoca dei conquistadores e degli scambi portuali che sono poi rinati ancora di più tutto ciò poi ha portato quindi l'associazione fumo e alcol questo perché il brandy per esempio il whisky e il rum come appena citati portavano di fatti lo sottoscuo della persona a livelli veramente elevati oltre a consumi continui quindi epatopatie problematiche del fegato, osteotosia epatica alcolica e perché no il mercato delle sigarette ha portato comunque un incremento pazzesco delle patologie polmonari ma anche del, purtroppo si sa, tumore polmonare non se ne può fare di molto è un paradosso che al giorno d'oggi comunque sui pacchetti scrivano chiaramente delle sigarette e il fumo nuocio però si continua a fumare è un controsenso però tutto ciò sta anche alla base della fisiologia di dipendenza dalla nicotina che è una dipendenza veramente molto molto più elevata rispetto a altri tipi di droghe ed è molto difficile di staccarsene tant'è per cui quindi nei fumatori più incalliti e persone che fumano da diversi anni addirittura per riuscire a stare normali e non essere già stressati di loro alla mattina loro tendono comunque a fumare questo perché se fumano in ultima istanza sono meno stressati anzi il loro livello di stress è normale come io dovessi svilare la mattina o come sto parlando con voi adesso ma tutto questo perché il nostro cervello è una macchina una spugna fondamentale io la chiamo in certi momenti e questa spugna fondamentale continuando ad assorbire e dovuta alla dipendenza da nicotina si adatta a quella dipendenza è chiaro che poi il fumatore incallito non basterà una singola sigaretta o due al giorno dovrà prendere molto di più anche perché l'effetto come tutte le sostanze varia anche in base alla concentrazione ma anche a quella tolleranza che si sviluppa per la sostanza stessa che è chiaro non dipenderà da uno o due sigare ogni volta ma tutto questo ci fa capire come l'essere umano di per sé sia continuamente alla ricerca anche del piacere stesso come ci viene spiegato dalla fisiologia dalla biochimica o dal piacere in ecstasy comunque che si ha l'essere umano vive completamente immerso in sensazioni dovute alla scarica di dopamina e la dopamina che nasce sia per quanto riguarda le situazioni comunque tra virgolette passatemi il termine peccaminose quasi degne di brothers potremmo dire dei siti particolarmente OJ Red Rouge nasce sicuramente per rendere l'uomo comunque sempre al settimo cielo e questo vuole continuamente raggiungerlo ma continuando a raggiungerlo la dose deve sempre essere aumentata in più e si genera quindi un circolo vizioso tale per cui la persona cerca sempre più una dipendenza certa è chiaro però la dipendenza certa che se viene comunque vista ogni tanto come una scappatoia potremmo andarla a definire o anche come un piacere personale condiviso con altri non ha nulla a che vedere di fatti con una dipendenza spinta comunque da un fumo propenso e continuo di pacchetti di sigarette o comunque di super alcolici o alcol bisogna comunque sapere contestualizzare la situazione e bisogna saper dosarsi come in ogni tipo di dose di sostanza ecco perché in questo caso il controllo che deve essere esercitato dalla persona sulle sostanze oppure se tipi anche che si collega anche al cibo stesso risulta essere fondamentale non è un caso che esistano poi alcuni tipi di farmaci che possano prevenire certi abusi ma anche terapia psico-cognitivo comportamentale questa cosa può anche essere vista anche negli acquisti compulsivi al giorno d'oggi con moltissime app mobile che anche esse generano una scarica di dopamina ma la figura del baronetto col sigaro rimane praticamente il top e il sigaro da i conquistatori spagnoli all'ottocento della rivoluzione industriale ai giorni d'oggi durante la guerra oppure durante pressoché lo spaccio di sigarette abusive ha rappresentato sempre e comunque rappresenterà uno status quo molto più superiore che viene comunque inculcato nelle masse al giorno d'oggi quindi se proprio volete straffarvi un cubanino ogni tanto meglio magari una cubana sono davvero al top